Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi farò un video sponsor che ho promesso a un mio amico che si chiama Selimben09 Vabbò il suo vero nome è Selim Ma il suo canale si chiama in questo modo E ha 36 iscritti Comunque ragazzi io vi dico se volete di iscrivervi al suo canale Perché i suoi video sono davvero belli Poi qua ha fatto un premiere Che qui ha fatto un video Che è ritornato col modellismo lui Inizia alle 17 per chi lo vuole sapere Allora ragazzi Ora vi spiego perché sto facendo questo video così Perché si lo so già ho caricato un video Anzi lo sta caricando No l'ha già caricato Che è L'unboxing Che è una nuova unboxing Di cui non vi dirò niente Voglio che la vedete voi di persona Allora ragazzi Se volete vedervi l'unboxing Vi lascio il link dell'unboxing in descrizione E in più vi lascio il link del canale di Selim anche in descrizione Allora video E come sapete tutti E come sapete tutti i commenti li ho disattivati per sicurezza Così non mi arriva nessun messaggio brutto E vabbè ragazzi Come al solito Prima di finire il video Iscrivetevi al canale di Selim E anche al mio E in più vi lascio anche il link in descrizione dell'unboxing E ci vediamo all'unboxing di domani Ciao